La natura della minaccia richiederà una squadra al completo. Deve andare in missione. Non è solo un attacco al nostro paese, è un attacco al nostro futuro. È confermata la presenza di una grande quantità di agenti di polizia. Segnalazioni non confermate di un'epidemia di... Siamo preparati per una lieve epidemia di vaiolo. Corrente, foglia di gas, incendi, sembra che prevede un'altra nottata di saccheggio selvaggio. Gli abitanti dei primi soccorritori sono morti... Sulla risorsa disponibile. Ci trattano come animali. Non è il nostro lavoro, non siamo addestrati. Sulla risorsa disponibile. Sulla risorsa disponibile. Sulla risorsa disponibile. Sulla risorsa disponibile. I've been in another world I've been living free I don't know what to do or save But I know what I need If you wanna escape with me Come take my hand Let me show you another way To a better land A better land A better land In the light now Pull me from the dark I know we're running out of time But we've come this far If you wanna escape with me Come take my hand Let me show you another way To a better land A better land I know we're running out of time We come this far Salutate 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 Ciao mamma I'll buy it at a high price Got some rare things on sale Stranger Is that all stranger Not enough cash Stranger Phony Ma perché la mia camera è sempre scarica? Mi sa che chiesti la tua Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì.